Giochiamo insieme come ogni sera, le criccri, arrivate fino a qui, provano a prendere l'ultima parola, che poi è lo scopo del gioco, anche se in molte premi non è altissimo, 805 euro. Partiamo da raccolto. AC, O finale e il terzo elemento. Allora, raccolto, questo appunto è raccolto, preso, raccolto, le foglie, Accumulato, accumulo, oppure raccolto a... Tipo il raccolto del grano, però... Acquisto, oppure raccolto, lo prendi, raccolto acceso, parole con acci, raga. Acciaio. Raccolto, accordo, accumulo, acquisto, acquisto, l'acqua, il raccolto d'acqua quando si forma... Acquatico. Ah, sì. Acquatico, raccolto... Acquedotto. 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 Ah, no. Ah, acqua... Acqu... Penso... Acceso. Acceso, oppure ha raccolto, i capelli raccolti. Sì, acconciato. Acconciato. Raccolto, acconciato. Accorciato. Accorciato, raccolto, però è come prima, risvolto, cos'era... Compro. Giulia, volete comprare il terzo elemento? Compriamo il terzo elemento. Ok, allora, diventiamo. 403 euro, ecco il terzo elemento. Amicizia. Accordo. Accordo, che amicizia? No. Amicizia, quindi cosa può essere amicizia? Amicizia, non mi vengono qua. Acceso, un modo di dire... Acquisto, no. Questo è un amico. No. No, accordo, no. Acquedotto. Amicizia, vai d'accordo. Dai d'accordo, d'amore, d'accordo. È raccolto. Accordo. Acceso, amicizia. Amicizia, due persone che si tengono la mano, che si vogliono bene, che si abbracciano. Accomunato. Accomunato. Cosa vi hai detto prima? Accumulato. No. Accumulato. Accomunato, però. Accumulato. Cosa dico, raga? Cosa dico? Allora, tempo scaduto. Giulia, qual è l'ultima parola di stasera? Accordo. Togliete pure le cuffie. Accordo. Con amicizia, come lo leghiamo? Un accordo d'amicizia, d'amore d'accordo, quindi essere amici. E l'accordo è raccolto, in realtà non... Ci siamo più legati ad amicizia, ecco. L'amicizia oggi, insomma, è quella tra voi, ma a volte si abusa di questa parola. C'è anche l'amicizia dei social network, per esempio, no? Quella che si richiede... Accettato. 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 No. L'accolto. L'accolto. Se io faccio un invito... Accomunato. Accolto. O una spina. Accolto. No. La parola di stasera. Accettato. Chi è legato? Raccolto e amicizia. E che vale 403 euro, è... Accettato. Non è questa. Accettato. Ho accettato la tua amicizia, come Evelina aveva conto. E ho raccolto e ho raccolto la sfida, ho raccolto l'invito, ho accettato l'invito, ho accettato la sfida. Comunque siete le nuove campionese e ci vediamo domani.